Grazie a tutti. Oltretutto Milano è una squadra molto grossa, molto fisica, costruita per infigurare l'Eurolega e quindi non ci possiamo dimenticare di questo, concentrarci sul lavoro difensivo e sui rimbazzi. Penso che una delle chiavi per poter controllare la partita sia quella di riuscire a contenere Samuels, lui è un giocatore molto fisico, grossa stazza, dovremmo cercare di fargli fare le cose che più gli riescono difficili per poter cercare di avere un controllo sulla partita. E' vero, Diavara è una delle nostre armi offensive migliori ed è altrettanto vero che quando lui fa fatica, perché poi alla fine gioca quasi tutta la partita, il nostro attacco ristagna un po'. Però abbiamo molte armi, lo posso vedere tutti i giorni in allenamento, abbiamo molte armi offensive di cui possiamo discorre, quindi dobbiamo cercare di bilanciare meglio le nostre scelte, quando anche Diavara deve riprendersi un attimo. Siamo molto contenti e ringraziamo il pubblico perché viene così numeroso al palazzetto, sia quando andiamo bene che anche quando andiamo male, ultimamente abbiamo perso un paio di partite che avremmo potuto portare a casa, quindi abbiamo bisogno dell'aiuto del pubblico e li ringraziamo molto.